L'Italia attraversa una fase politica delicata in cui non voglio entrare, ma noi in Germania vogliamo risolvere con voi i grandi problemi, le sfide della nostra epoca. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel da Assisi dove ha ricevuto la lampada della pace di San Francesco. Merkel ha citato in particolare il problema dei migranti. Non dobbiamo pensare solo al nostro benessere, ha detto, esortando ad affrontare le cause e le origini delle migrazioni.